Atti degli Apostoli Capitolo 1 Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli Apostoli che aveva scelti, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per quaranta giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo, franno molti giorni. Quelli dunque, che erano riuniti, gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro, Non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, E mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, E una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi, E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, Mentre egli se ne andava due uomini in vesti bianche, si presentarono a loro e dissero, Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto, ed è stato elevato in cielo, Ritornerà nell'ammetissima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Oliveto, Che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, Dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota, E Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne, E con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. In quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, Il numero delle persone riunite era di circa centoventi, disse Fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della scrittura, Pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, Che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù, Perché egli era uno di noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità, Poi essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre, E tutte le sue interiora si sparsero. Questo è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, Che quel campo è stato chiamato nella loro lingua Akeldama, Cioè campo di sangue. Infatti sta scritto nel Libro dei Salmi, La sua dimora diventi deserta, E più nessuno abiti in essa, E il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia Tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, A cominciare dal battesimo di Giovanni, Fino al giorno che egli, tolto da noi, E' stato elevato in cielo, Uno, diventi testimone con noi della sua risurrezione. Essi ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato giusto, E Mattia. Poi in preghiera dissero, Tu, Signore, Ti conosci i cuori di tutti, Indicaci, Quale di questi due hai scelto Per prendere in questo ministero apostolico Il posto che Giuda ha abbandonato Per andarsene al suo luogo. Tirarono quindi a sorte, E la sorte cade su Mattia, Che fu incluso tra gli undici apostoli. Capitolo 2 Quando il giorno della Pentecoste giunse, Tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo Un suono come di vento impetuoso che soffia, E riempì tutta la casa dove si erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, Che si dividevano, E se ne posò una Su ciascuno di loro. Tutti Furono riempiti di Spirito Santo E cominciarono a parlare in altre lingue, Come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei Giudei, Uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, La folla si raccolse e fu confusa, Perché ciascuno li odiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li odiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi e lamiti, Abitanti della Mesopotamia, Della Giudea e della Cappadocia, Del Punto e dell'Asia, Della Frigia e della Panfilia, Dell'Egitto e delle parti della Libia, Cirenaica e pellegrini romani, Tanto giudei che proseliti, Cretesi e arabi, Li odiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi chiedendosi l'uno all'altro, Che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano, Sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, Levatosi in piedi con gli undici, Alzò la voce e parlò loro così, Uomini di Giudea, E voi tutti che abitate in Gerusalemme, Vi sia noto questo, E ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, Perché è soltanto la terza ora del giorno, Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Joele. Avverrà negli ultimi giorni, Dice Dio, Che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, I vostri giovani avranno delle visioni, E i vostri vecchi sogneranno dei sogni, Anche sui mie servi e sulle mie serve in quei giorni, Spanderò il mio spirito e profetizzeranno, Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, Sangue e fuoco e vapore di fumo, Il sole sarà mutato in tenebre, La luna in sangue, Prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore, E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore, Sarà saldato. Uomini di Israele, Ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, Vendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, Perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui, Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, Perché egli è alla mia destra, Affinché io non sia smosso, Per questo si è rallegrato il mio cuore, E la mia lingua ha giubilato, E anche la mia carne riposerà nella speranza, Perché tu non lascerai l'anima mia nell'Hades, E non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, Tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Fratelli, Si può ben dire liberamente riguardo al Patriarca Davide, Che egli morì e fu sepolto, E la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso congiuramento, Che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, Previde la risurrezione di Cristo, E ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti, E che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. Di ciò, noi tutti siamo testimoni, Egli dunque essendo stato esaltato Dalla destra di Dio E avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, Ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide infatti non è salito in cielo, Eppure egli stesso dice Il Signore ha detto al mio Signore Siedi alla mia destra, Finché io abbia posto i tuoi nemici Per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele Che Dio ha costituito Signore e Cristo, Quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, Essi furono compunti nel cuore, E dissero a Pietro e agli altri apostoli, Fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, Ravvedetevi, E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, Per il perdono dei vostri peccati, E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, Perché è per voi la promessa, Per i vostri figli, E per tutti quelli che sono lontani, Per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, Dicendo, Salvatevi, Da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola, Furono battezzati, E in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila persone, Ed erano perseveranti nell'ascoltare, L'insegnamento degli apostoli, Nella comunione fraterna, Nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, E molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme, E avevano ogni cosa in comune, Vendevano le proprietà e i beni, E li distribuivano a tutti, Secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, Rompivano il pane nelle case, E prendevano il loro cibo insieme, Con gioia e semplicità di cuore, Lodando Dio, E godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno, Alla loro comunità, Quelli che venivano salvati. Capitolo 3 Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, Mentre si portava un uomo, Zoppo fin dalla nascita, Che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio, Detta Bella, Per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, Egli chiese loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, Fissando gli occhi su di lui, disse, Guardaci. Edì, Li guardava attentamente, Aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, Dell'argento e dell'oro io non ne ho, Ma quello che ho, Te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, Il Nazareno, Cammina. Lo prese per la mano destra, E lo sollevò. E in quell'istante, Le piante dei piedi e le caviglie Gli si rafforzarono, E con un balzo si alzò in piedi, E cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, Camminando, Saltando E lodando Dio. Tutto il popolo lo vide, Che camminava e lodava Dio. E lo riconoscevano per colui Che sedeva a chiedere l'elemosina Alla porta bella del tempio. E furono pieni di meraviglia e di stupore Per quello che gli era accaduto. Mentre quell'uomo teneva stretti a sé, Pietro e Giovanni, Tutto il popolo stupito Accorse a loro al portico, Detto di Salomone. Pietro, visto ciò, Parlò al popolo dicendo Uomini di Israele, Perché Vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi Come se per la nostra propria potenza o pietà Avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, Di Isacco e di Giacobbe, Il Dio dei nostri padri Ha glorificato il suo servo Gesù Che voi metteste nelle mani di Pilato E rinnegaste davanti a lui Mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il Santo, Il Giusto E chiedeste che vi fosse concesso Un omicida E uccideste il principe della vita Che Dio ha risuscitato dai morti Di questo noi siamo testimoni E per la fede nel suo nome Il suo nome ha fortificato Quest'uomo che vedete e conoscete Ed è la fede Che sia per mezzo di lui Che gli ha dato questa perfetta guarigione In presenza di voi tutti. Ora fratelli Io so che lo faceste per ignoranza Come pure i vostri capi Ma ciò che Dio aveva preannunziato Per bucca di tutti i profeti Ciò è che il suo Cristo Avrebbe sofferto Egli lo ha adempiuto in questa maniera Ravvedetevi dunque E convertitevi Perché i vostri peccati Siano cancellati E affinché vengano Dalla presenza del Signore Dei tempi di ristoro E che gli mandi il Cristo Che vi è stato predestinato Cioè Gesù Che il cielo deve tenere accolto Fino ai tempi Della restaurazione di tutte le cose Di cui Dio ha parlato Fin dall'antichità Per bucca dei suoi santi profeti Mosè infatti disse Il Signore Dio vi susciterà In mezzo ai vostri fratelli Un profeta come me Ascoltatelo In tutte le cose che vi dirà E avverrà che chiunque Non avrà ascoltato questo profeta Sarà estirpato di mezzo al popolo Tutti i profeti Che hanno parlato da Samuele in poi Hanno anch'essi annunziato questi giorni Voi siete i figli dei profeti E del patto che Dio fece Con i vostri padri Dicendo ad Abramo Nella tua discendenza Tutte le nazioni della terra Saranno benedette A voi Per primi Dio Avendo suscitato il suo servo Lo ha mandato per benedirvi Convertendo ciascuno di voi Dalle sue malvagità Capitolo 4 Mentre essi parlavano al popolo Giunsero i sacerdoti Il capitano del tempio E i sadducei Indegnati perché si insegnavano al popolo E annunziavano in Gesù La resurrezione dai morti Misero loro le mani addosso E li gettarono in prigione Fino al giorno seguente Perché era già sera Ma molti di coloro Che avevano udito la parola Credettero E il numero degli uomini Salì a circa Cinquemila Il giorno seguente I loro capi Con gli anziani E gli iscrivi Si riunirono a Gerusalemme Con Anna Il summo sacerdote Cajafa Giovanni Alessandro E tutti quelli che appartenevano Alla famiglia dei summi sacerdoti E fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni Domandarono con quale potere O in nomi di chi Avete fatto questo Allora Pietro Pieno di Spirito Santo Disse loro Capi del popolo e anziani Se oggi siamo esaminati A proposito Di un beneficio Fatto a un uomo infermo Per sapere com'è che Quest'uomo è stato guarito Sia noto a tutti voi E a tutto il popolo di Israele Che questo È stato fatto nel nome di Gesù Cristo Il Nazareno Che voi avete crocifisso E che Dio ha risuscitato dai morti È per la sua virtù Che quest'uomo compare guarito In presenza vostra Egli è la pietra che è stata Da voi costruttori rifiutata Ed è divenuta La pietra angolare In nessun altro è la salvezza Perché non vi è sotto il cielo Nessun altro nome Che sia stato dato agli uomini Per mezzo del quale Noi Dobbiamo essere salvati Essi Vista la franchezza di Pietro E Giovanni Si meravigliavano Avendo capito Che erano popolani Senza istruzione Riconoscevano Che erano stati con Gesù E vedendo l'uomo Che era stato guarito Lì presente con loro Non potevano dire niente In contrario Ma dopo aver ordinato Loro di uscire dal Sinedrio Si consultarono Gli uni gli altri Dicendo Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo Sia stato fatto Per mezzo di loro E noto a tutti gli abitanti Di Gerusalemme E noi Non possiamo negarlo Ma affinché ciò Non si diffonda Maggiormente tra il popolo Ordiniamo loro Con minacce Di non parlare più a nessuno Nel nome di costui E avendoli chiamati Impusero loro Di non parlare Né insegnare affatto Nel nome di Gesù Ma Pietro e Giovanni Risposero loro Giudicate voi Se è giusto Davanti a Dio Ubbidire a voi Anziché a Dio Quanto a noi Non possiamo Non parlare Delle cose Che abbiamo viste E udite Ed essi Minacciateli di nuovo E lasciarono andare Non trovando assolutamente Come poterli punire A causa del popolo Perché tutti Glorificavano Dio Per quello Che era accaduto Infatti L'uomo In cui Questo miracolo Della guarigione Era stato compiuto Aveva più di Quarant'anni Rimessi quindi In libertà Vennero ai loro E riferirono Tutte le cose Che i capi Dei sacerdoti E gli anziani Avevano ditti Udito ciò Essi alzarono Concordi La voce a Dio E dissero Signore Tu sei colui Che ha fatto il cielo La terra Il mare E tutte le cose Che sono in essi Colui che Mediante Lo spirito Santo Ha detto Per bocca Del tuo servo Davide Nostro padre Perché questo Tumulto Fra le nazioni E i popoli Meditano Cose vane I re De la terra Si sono sollevati I principi Si sono riuniti Insieme Contro il signore Contro il suo Cristo Proprio in questa città Contro il tuo santo Servitore Gesù Che tu hai unto Si sono radunati Erode e Ponzio Pilato Insieme con le nazioni E con tutto il popolo Di Israele Per fare Tutte le cose Che la tua volontà E il tuo consiglio Avevano prestabilito Che avvenissero Adesso signore Considera Le loro minacce E concedi ai tuoi servi Di annunziare La tua parola In tutta franchezza Stendendo la tua mano Per guarire Perché si facciano Segni e prodigi Mediante il nome Del tuo santo servitore Gesù Dopo che ebbero pregato Il luogo dove erano Riuniti Tremò E tutti furono Riempiti Dello Spirito Santo E annunziavano La parola di Dio Con franchezza La moltitudine Di quelli Che avevano creduto Era ad un sol cuore E di un'anima sola Non vi era Chi dicesse Su alcune Delle cose Che possedeva Ma tutto Era in comune Tra di loro Gli apostoli Con grande potenza Rendevano Testimonianza Della risurrezione Del Signore Gesù E grande grazia Era sopra tutti loro Infatti Non c'era Nessun bisognoso Tra di loro Perché tutti Quelli che Possedevano Poderi o case Li vendevano Portavano All'importo Delle cose vendute E lo deponevano Ai piedi Degli apostoli Poi Veniva Distribuito A ciascuno Secondo il bisogno Or Giuseppe Soprannominato Dagli apostoli Barnaba Che tradotto Vuol dire Figlio di consolazione Levita Cipriota Di nascita Avendo un campo Lo vendette E ne consegnò Il ricavato Deponendolo Ai piedi Degli apostoli Capitolo 5 Ma un uomo Di nome Anania Con Saffira Sua mogli Vendette Una proprietà E tenne per sé Parte del prezzo Sendone consapevole Anche la moglie E un'altra parte La consegnò Deponendola Ai piedi Degli apostoli Ma Pietro Disse Anania Perché Satana Ha così riempito Il tuo cuore Da farti mentire Allo Spirito Santo E trattenere Parte Del prezzo Del podere Se questo Non si vendeva Non restava Tuo E una volta Venduto Il ricavato Non era A tua disposizione Perché ti sei messo In cuore Questa cosa Tu non hai mentito Agli uomini Ma a Dio Anania Udendo queste parole Katte Espirò E un gran temore Prese tutti quelli Che udirono Queste cose I giovani Alzatisi Ne avvolsero il corpo E portatolo fuori Lo seppellirono Circa tre ore dopo Sua moglie Non sapendo Ciò che era accaduto Entrò E Pietro Rivolgendosi a lei Dimmi Le disse Avete venduto Il podere Pertanto Ed il rispose Sì Pertanto Allora Pietro Le disse Perché vi siete Accordati A tentare Lo spirito Del signore Ecco i piedi Di quelli Che hanno Seppellito Tuo marito Sono alla porta E porteranno Via anche te Ed ella In quell'istante Cadde ai suoi piedi Ispirò I giovani Entrati La trovarono Morta E portata La via La seppellirono Accanto A suo marito Allora Un gran temore Venne su tutta La chiesa E su tutti Quelli che Udivano Queste cose Molti segni E prodigi Erano fatti Tra il popolo Per le mani Degli apostoli E tutti Di comune Accordo Si ritrovavano Sotto il portico Di Salomone Ma nessuno Degli altri Osava unirsi A loro Il popolo Però Li esaltava E sempre di più Si aggiungevano Uomini E donne In gran numero Che credevano Nel signore Tanto che portavano Perfino i malati Nelle piazze E li mettevano Sulle tucci E giacigli Affinché Quando Pietro Passava Almeno la sua ombra Ne coprisse qualcuno La folla Correva Dalle città Vicine A Gerusalemme Portando malati E persone Tormentate Da spiriti Immondi E tutti Erano guariti Il sumo sacerdote E tutti quelli Che erano con lui Cioè La setta Dei saducei Si alzarono Pieni di invidia E misero le mani Sopra gli apostoli E li gettarono Nella prigione pubblica Ma un angelo del signore Nella notte Aprì le porte Della prigione E condottili fuori Disse Andate Presentatevi Nel tempio E annunziate Al popolo Tutte le parole Di questa vita E si Udito ciò Entrarono Sul far del giorno Nel tempio E insegnavano Ora Il sumo sacerdote E quelli Che erano con lui Vennero Convocarono Il sinedrio E tutti gli anziani Del popolo Di Israele E mandarono Alla prigione Per far condurre Davanti a loro Gli apostoli Ma le guardie Che vi andarono Non li trovarono Nella prigione E tornate Fecero il loro rapporto Dicendo La prigione L'abbiamo trovata Chiusa Con ogni diligenza E le guardie In piedi Davanti alle porte Abbiamo aperto Ma non abbiamo Trovato nessuno Dentro Quando il capitano Del tempio E i capi Dei sacerdoti Udirono Queste cose Rimasero perplessi Sul conto loro Non sapendo Cosa ciò Potesse significare Ma sopraggiunse uno Che disse loro Ecco Gli uomini Che voi metteste In prigione Sono nel tempio E stanno insegnando Al popolo Allora il capitano Con le guardie Andò E li condusse via Senza far loro Violenza Perché temevano Di essere Lapidati dal popolo Dopo averli portati via Li presentarono Al sinedrio E il sommo sacerdote Li interrogò Dicendo Non vi abbiamo Forse Espressamente Vietato Appendendolo A legno E lo ha Innalzato Con la sua Destra Costituendolo Principe E Salvatore Per dare Ravvedimento A Israele E perdono Dei peccati Noi siamo Testimoni Di queste cose E anche Lo spirito Santo Che Dio Ha dato A quelli Che li Ubbidiscono Ma essi Udendo Queste cose Fremevano D'ira E si proponevano Di ucciderli Ma un fariseo Di nome Gamaliele Dottore Della legge Onorato Da tutto Il popolo Alzatosi In piedi Nel sinedrio Comandò Che gli apostoli Venissero Un momento Allontanati Poi Disse loro Uomini Di Israele Badate bene A quello Che state Per fare Circa Questi uomini Poiché Prima d'ora Sorse Teuda Dicendo Di essere Qualcuno Presso Di lui Si raccolsero Circa Quattrocento Uomini E li fu Ucciso E tutti Quelli Che gli Avevano Dato Ascolto Furono Dispersi E ridotti A nulla Dopo Di lui Sorse Giuda Il Galileo Ai giorni Del censimento E si Trascinò Dietro Della Gente Anche Anche Egli Perì E tutti Quelli Che gli Avevano Dato Ascolto Furono Dispersi E ora Vi dico Tenetevi Lontani Da loro E Ritiratevi Da questi Uomini Perché Se questo Disegno O Quest'opera È Dagli Uomini Sarà Distrutta Ma se è da Dio Voi Non potrete Distruggerli Se non volete Trovarvi a combattere Anche contro Dio Essi furono Da Lui Convinti E Chiamati Gli Apostoli Li Batterono Ingiunsero Loro Di non Parlare Nel nome Di Gesù E li Lasciarono Andare Essi Dunque Se ne Andarono Via Dal Sinedrio Rallegrandosi Di essere Stati Ritenuti Degni Di essere Oltraggiati Per il nome Di Gesù Ed Ogni Giorno Nel Tempio E Nelle Case Non cessavano Di insegnare E di portare Il lieto messaggio Che Gesù È il Cristo Capitolo 6 In quei giorni Moltiplicandosi Il numero Dei discepoli Sorsi Un murmurio Da parte Degli ellenisti Contro Gli ebrei Perché Le loro Vedove Erano Trascurate Nell'assistenza Quotidiana I dodici Convocata La moltitudine Dei discepoli Dissero Non è conveniente Che noi lasciamo La parola di Dio Per servire Alle mense Pertanto Fratelli Cercate Di trovare Fra di voi Sette uomini Dei quali Si abbia Buona testimonianza Pieni di spirito E di sapienza Ai quali Affideremo Questo incarico Quanto a noi Continueremo A dedicarci Alla preghiera E al ministero Della parola Questa proposta Piacque a tutta La moltitudine Ed è l'essero Stefano Uomo pieno Di fede E di spirito Santo Filippo Procoro Nicanori Timone Parmena E Nicola E Nicola Proselyto Di Antiochia Li presentarono Agli apostoli I quali Dopo aver pregato Imposero loro Le mani La parola di Dio Si diffondeva E il numero Dei discepoli Si moltiplicava Grandemente In Gerusalemme E anche un gran numero Di sacerdoti Ubidiva Alla fede Ora Stefano Pieno di grazia E di potenza Faceva grandi prodigi E segni Tra il popolo Ma alcuni Della sinagoga Addetta dei Liberti Dei Cirenei Degli Alessandrini Di quelli Di Cilicia E Dasia Si misero A discutere Con Stefano E non potevano Resistere Alla sapienza E allo spirito Con cui Egli parlava Allora Estigarono Degli uomini Che dissero Noi lo abbiamo Udito Mentre pronunciava Parole di bestemmia Contro Mosè E contro Dio E si misero In agitazione Il popolo Gli anziani Gli iscrivi E venuti Gli addosso Lo afferrarono E lo condussero Al sinedrio E presentarono Dei falsi testimoni Chi dicevano Quest'uomo Non cessa Di proferire parole Contro il luogo santo E contro la legge Infatti Lo abbiamo udito Affermare Che quel nazareno Gesù Distruggerà Questo luogo E cambierà Gli usi Che Mosè Ci ha tramandati E tutti quelli Che sedevano Nel sinedrio Fisati gli occhi Su di lui Videro il suo viso Simile a quello Di un angelo Capitolo 7 Il sumo sacerdote Disse Le cose Stanno proprio così Egli rispose Fratelli e padri Ascoltate Il Dio della gloria Aparve ad Abramo Nostro padre Mentre gli era In Mesopotamia Prima che si stabilisse In Carran E gli disse Esci dal tuo paese E dal tuo parentado E vai nel paese Che io ti mostrerò Allora Egli lasciò Il paese Dei Caldei E andò Ad abitare In Carran E di là Dopo che Suo padre Morì Dio lo fece Venire in questo Paese Che ora voi Abitate In esso però Non gli diede In proprietà Neppure un palmo Di terra Ma gli promise Di darla In possesso A lui E alla sua Discendenza Dopo di lui Quando egli Non aveva Ancora Nessun figlio Dio parlò Così La sua Discendenza Soggiornerà In terra Straniera E sarà Ridotta In schiavitù E maltrattata Per quattrocento Anni Ma io Giudicherò La nazione Che avranno Servita Disse Dio E dopo Questo Essi Partiranno E mi renderanno Il loro culto In questo Luogo Poi Gli diede Il patto Della circoncisione Così Abramo Dopo aver Generato Isacco Lo circoncise L'ottavo giorno E Isacco Generò Giacobbe E Giacobbe I dodici Patriarchi I patriarchi Portando invidia A Giuseppe Lo vendettero Perché fosse Condotto In Egitto Ma Dio Era con lui E lo liberò Da ogni Sua Tribolazione E gli diede Sapienza E grazia Davanti al Faraone Re d'Egitto Che lo Costituì Governatore Dell'Egitto E di tutta La sua Casa Sopraggiunse Poi una Carestia In tutto L'Egitto E in Canaan L'angoscia Era grande E i nostri Padri Non trovavano Viveri Giacobbe Giacobbe Saputo Che in Egitto C'era Grano Vi mandò Una prima Volta I nostri Padri La seconda Volta Giuseppe Fu riconosciuto Dai suoi Fratelli E così Il Faraone Venne a sapere Di che Stirpe Fosse Giuseppe Poi Giuseppe Mandò A chiamare Suo padre Giacobbe E tutta La sua Parentela Composta Di 75 Persone Giacobbe Discese In Egitto Dove Morirono Lui E i nostri Padri Poi Furono Trasportati A Sichem E deposti Nel sepolcro Che Abramo Aveva comprato Con una Somma Di denaro Dai figli Di Emor In Sichem Mentre Si avvicinava Il tempo Del compimento Della promessa Fatta da Dio Ad Abramo Il popolo Crebbe E si Moltiplicò In Egitto Finché Sorse Sull'Egitto Un altro re Che non Sapeva Nulla Di Giuseppe Costui Procedendo Con astuzia Contro il nostro Popolo Maltrattò I nostri Padri Fino a Costringerli Ad abbandonare I loro Bambini Perché non Fossero Lasciati In vita In quel tempo Nacque Mosè Che era Bello Agli occhi Di Dio Egli fu Nutrito Per tre Mesi In casa Di suo Padre E quando Fu Abbandonato La figlia Del faraone Lo raccolse E lo Allevò Come figlio Mosè fu Istruito In tutta la Sapienza Degli Egiziani E divenne Potente In parole E opere Ma quando Raggiunse L'età Di quarant'anni Gli venne in Animo Di andare A visitare I suoi Fratelli I figli Di Israele Vedendo Che uno Di loro Era maltrattato Ne prese Le difese E vendicò L'oppresso Colpendo A morte L'Egiziano Ora Egli Pensava Che i suoi Fratelli Avrebbero Capito Che Dio Voleva Salvarli Per mano Di lui Ma Essi Non Compresero Il giorno Seguente Si presentò A loro Mentre Litigavano E cercava Di riconciliarli Dicendo Uomini Voi siete Fratelli Perché vi Fate Torto A vicenda Ma Quello Che faceva Torto Al suo Prossimo Lo respinse Dicendo Chi ti ha Costituito Capo E giudice Su di Noi Vuoi Uccidere Me Come Ieri Uccidesti L'Egiziano A queste Parole Mosè Fuggì E andò A vivere Come straniero Nel paese Di Madian Dove Ebbe Due Figli Trascorsi i quarant'anni Un angelo li apparve nel deserto del monte Sinai Nella fiamma di un pruno ardente Mosè guardò E rimase stupito Di questa visione E come si avvicinava per osservare meglio Si udì la voce del Signore Io Sono il Dio dei tuoi padri Il Dio di Abramo Di Isacco E di Giacobbe Mosè tutto tremante Non osava guardare Il Signore gli disse Togliti i calzari dai piedi Perché il luogo dove stai È suolo sacro Certo Ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto Ho udito I loro gemiti E sono disceso per liberarli E ora Vieni Ti manderò in Egitto Questo Mosè Che avevano rinnegato dicendo Chi ti ha costituito capo e giudice Proprio lui Dio mandò loro come capo e liberatore Con l'aiuto dell'angelo Che gli era apparso nel pruno Egli Li fece uscire Compiendo prodigi e segni Nel paese d'Egitto Nel Mar Rosso E nel deserto Per quarant'anni Questi è il Mosè Che disse ai figli di Israele Dio vi susciterà Tra i vostri fratelli Un profeta come me Questi È colui Che nell'assemblea del deserto Fu con l'angelo Che gli parlava Sul monte Sinai E con i nostri padri E che ricevette parole di vita Da trasmettere a noi Ma i nostri padri Non vollero dargli ascolto Lo respinsero E si volsero in cuor loro Verso l'Egitto Dicendo ad Aronne Facci degli dèi Che vadano davanti a noi Perché di questo Mosè Che ci ha condotti fuori dall'Egitto Non sappiamo che cosa sia avvenuto E in quei giorni Fabbricarono un vitello Offrirono sacrifici all'idolo E si rallegrarono Per l'opera delle loro mani Ma Dio si ritrasse da loro E li abbandonò Al culto dell'esercito del cielo Come sta scritto nel libro dei profeti Mi avete forse offerto vittime e sacrifici Per quarant'anni nel deserto O casa di Israele? Anzi Vi portaste appresso la tenda di Moloch E la stella del Dio Refan Immagini Che voi faceste Per adorarle Perciò Io vi deporterò di là Da Babilonia I vostri padri Avevano nel deserto La tenda della testimonianza Come aveva ordinato colui Che aveva detto a Mosè Di farla secondo il modello Da lui veduto I nostri padri Guidati da Giosuè Dopo averla ricevuta La trasportarono nel paese Posseduto dai popoli Che Dio scacciò davanti a loro Là Rimase fino ai tempi di Davide Il quale trovò grazia davanti a Dio E chiese di poter preparare lui Una dimora al Dio di Giacobbe Fu invece Salomone Che gli costruì una casa L'Altissimo però non abita In edifici fatti da mano d'uomo Come dice il profeta Il cielo è il mio trono E la terra lo sgabello Dei miei piedi Quale casa mi costruirete Dice il Signore O quale sarà il luogo Del mio riposo Non ha la mia mano Creato tutte queste cose Gente di collo duro E incirconcisa di cuore e d'orecchie Voi opponete sempre resistenza Allo Spirito Santo Come fecero i vostri padri Così fate anche voi Quale dei profeti Non perseguitarono i vostri padri Essi uccisero quelli Che preannunciavano La venuta del giusto Del quale voi Ora siete divenuti I traditori e gli uccisori Voi Che avete ricevuto La legge promulgata dagli angeli E non l'avete osservata Essi Udendo queste cose Fremivano di rabbia in cuor loro E digregnavano i denti Contro di lui Ma Stefano Pieno di Spirito Santo Fissati gli occhi al cielo Vide la gloria di Dio E Gesù Che stava alla sua destra E disse Ecco Io vedo i cieli aperti E il figlio dell'uomo in piedi Alla destra di Dio Ma essi gettarono grida altissimi Si durarono gli orecchi E si avventarono tutti insieme Sopra di lui E cacciatolo fuori dalla città Lo lapidarono I testimoni deposero i loro mantelli Ai piedi di un giovane Chiamato Saulo E lapidarono Stefano Che invocava Gesù E diceva Signore Gesù Accoglie il mio spirito Poi Messosi in ginocchio Gridò ad alta voce Signore non imputar loro questo peccato E detto questo Si addormentò Signore non imputar Capitolo 8 Il Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli Apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo, intanto, devastava la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, Ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva. Infatti, gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti. Vi fu grande gioia in quella città. Orvi era un tale, di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche, e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo «Questi è la potenza di Dio, quella che è chiamata la grande!» E gli davano ascolto perché, già da molto tempo, li aveva incantati con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Simone, credite anche lui, e dopo essere stato battezzato, stava sempre con Filippo, e restava meravigliato, vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatti. Allora gli apostoli, che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Essi andarono e pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato allo Spirito Santo, offri loro del denaro dicendo, Date anche a me questo potere affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse, Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno d'amarezza e prigioniero d'iniquità. Simone rispose, Pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Essi, dopo aver reso testimonianza e aver annunziato la parola del Signore, se ne ritornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi della Samaria. Un angelo del Signore parlò a Filippo così, Alzati e va verso mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza, e sei una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un Etiope, e un Unco, e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, e ora stava tornandosene seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo, Avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, e gli disse, Capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose, E come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato condotto al macello, come una pecora, e come un agnello, che è muto davanti a colui che lo tosa. Così, egli non ha aperto la bocca. Nella sua omigliazione, egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Leonuco, rivolto a Filippo, gli disse, Di chi, ti prego, dice questo il profeta, di se stesso, oppure di un altro? Allora Filippo, presi a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua, e Leonuco disse, Ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse, Se tu credi con tutto il cuore, è possibile. Leonuco rispose, Io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro, e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e Leonuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e Leonuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot, e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Capitolo 9 Saulo, sempre espirante minacce e stragi, contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote, e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre, legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, d'improvviso, svolgorò intorno a lui una luce dal cielo, e caduto in terra, udì una voce che gli diceva Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E domandò Chi sei, Signore? E il Signore? Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo. E tutto tremante e spaventato disse, Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore gli disse, Alzati, entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il viaggio con lui, rimasero stupiti, perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. E quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase tre giorni, senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania, e il Signore gli disse in visione, Anania, e gli rispose, Eccomi, Signore, e il Signore a lui, Alzati, va nella strada chiamata di Ritta, e cerca in casa di Giuda uno di Tarso, chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera, e ha visto in visione un uomo chiamato Anania, entrare e imporgli le mani perché ricuperi la vista. Ma Anania rispose, Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli dice, Vai, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse, Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. poi, alzatosi, fu battezzato e dopo aver preso cibo gli ritornarono le forze. Rimasi alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare nelle sinagoge che Gesù è il figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano Ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti? Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondiva i giudei residenti a Damasco dimostrando che Gesù è il Cristo. Parecchi giorni dopo i giudei deliberarono di ucciderlo ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto essi facevano persino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta. Quando fu giunto a Gerusalemme tentava di unirsi ai discepoli ma tutti avevano paura di lui non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli saputolo lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Avvenni che mentre Pietro andava a far visita a tutti si recò anche dai Santi residenti a Lidda. Là trovò un uomo di nome Enea che da otto anni giaceva paralitico in un letto. Pietro gli disse Enea Gesù Cristo ti guarisce alzati e rifatti il letto. Egli subito si alzò e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. A Iope c'era una discepola di nome Tabita che tradotto vuol dire gazzella. Il faceva molte opere buone e delle mosine. Proprio in quei giorni si ammalò e morì e dopo averla lavata la deposero in una stanza di sopra. Poiché Lidda era vicina a Iope i discepoli udito che Pietro era là mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio andasse da loro. Pietro allora si alzò e partì con loro. appena arrivato lo condussero nella stanza di sopra e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo mostrandogli tutte le tuniche e le vesti che gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro fatti uscire tutti si mise in ginocchio e pregò e voltatosi verso il corpo disse Tabita alzati e la aprì gli occhi e visto Pietro si mise seduta e gli le diede la mano e la fece alzare e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita ciò fu risaputo in tutta Iope e molti credettero nel signore Pietro rimase molti giorni a Iope presso un certo Simone conciatore di pelli capitolo dieci vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio centurione della corte detta italica quest'uomo era più etimorato di Dio con tutta la sua famiglia faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente e gli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse Cornelio e gli guardandolo fisso e preso da spavento rispose che c'è signore e l'angelo gli disse le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio e ora manda degli uomini a Ioppe e fa venire un certo Simone detto anche Pietro egli è ospite di tal Simone conciatore di pelli la cui casa è vicina al mare appena appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un pio soldato fra i suoi attendenti e dopo aver raccontato loro ogni cosa li mandò a Ioppe il giorno seguente mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare ebbe però fame e desiderava prender cibo ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi vide il cielo aperto e scenderne un oggetto simile a una gran tovaglia che tenuta per i quattro angoli veniva calata a terra in essa c'era ogni sorta di quadrupedi rettili della terra e uccelli del cielo e una voce gli disse alzati Pietro ammazza e mangia ma Pietro rispose no assolutamente signore perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato e la voce parlò una seconda volta le cose che Dio ha purificate non farle tu impure questo avvenne per tre volte poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo mentre Pietro dentro di sé si domandava che cosa significasse la visione ecco gli uomini mandati da Cornelio i quali avendo domandato della casa di Simone si fermarono alla porta avendo chiamato chiesero se Simone detto anche Pietro alloggiasse lì mentre Pietro stava ripensando alla visione lo spirito gli disse ecco tre uomini che ti cercano alzati dunque scendi e va con loro senza fartene scrupolo perché li ho mandati io Pietro sceso verso quegli uomini disse loro eccomi sono io quello che cercate qual è il motivo per cui siete qui essi risposero il centurione Cornelio uomo giusto e timorato di Dio del quale rende buona testimonianza tutto il popolo dei giudei è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli Pietro allora li fece entrare e li ospitò il giorno seguente andò con loro e alcuni fratelli di Iop l'accompagnarono l'indomani arrivarono a Cesarea Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi amici intimi mentre Pietro entrava Cornelio andandogli incontro si inginocchiò davanti a lui e l'adorò ma Pietro lo rialzò dicendo alzati anch'io sono uomo conversando con lui entrò e trovate molte persone li riunite disse loro voi sapete come non sia lecito a un giudeo di aver relazioni con uno straniero o di entrare in casa sua ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato perciò essendo stato chiamato sono venuto senza fare obiezioni ora vi chiedo qual è il motivo per cui mi avete mandato a chiamare Cornelio disse quattro giorni or sono stavo pregando allora nona in casa mia quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse Cornelio la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio manda dunque qualcuno agli oppe e fa venire Simone detto anche Pietro egli è ospite in casa di Simone conciatore di pelli in riva al mare perciò subito mandai a chiamarti e tu hai fatto bene a venire ordunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore allora Pietro cominciando a parlare disse in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito questa è la parola che gli ha diretta ai figli di Israele portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo egli è il Signore di tutti voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea incominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui e noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme essi lo uccisero appendendolo a un legno ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo ma ai testimoni prescelti da Dio cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti e ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri perché gli devono parlare in altre lingue e glorificare Dio allora Pietro disse c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro capitolo 11 gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio e quando Pietro salì a Gerusalemme i credenti circoncisi lo contestavano dicendo tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro allora Pietro raccontò loro le cose per ordine fin dal principio dicendo io ero nella città di Iope in preghiera e rapito in estasi ebbi una visione un oggetto simile a una gran tovaglia tenuto per i quattro capi scendeva giù dal cielo e giunse fino a me io fissandolo con attenzione lo esaminai e vidi quadrupedi della terra fiere rettili e uccelli del cielo udì anche una voce che mi diceva Pietro alzati ammazza e mangia ma io dissi no assolutamente signore perché nulla di impuro o contaminato mi è mai entrato in bocca ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo le cose che Dio ha purificate non farle tu impure e ciò accadde per tre volte poi ogni cosa fu ritirata in cielo in quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo lo spirito mi disse di andare con loro senza farmene scrupolo anche questi sei fratelli vennero con me ed entrammo in casa di quell'uomo egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli manda qualcuno a Iope e fai venire Simone detto anche Pietro egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia avevo appena cominciato a parlare quando lo spirito santo scese su di loro esattamente come su di noi al principio mi ricordai allora di quella parola del signore che diceva Giovanni ha battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo spirito santo se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel signore Gesù Cristo chi ero io da potermi opporre a Dio allora udite queste cose si calmarono e glorificarono Dio dicendo Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia a Cipro e ad Antiochia annunziando la parola solo ai giudei e a nessun altro ma alcuni di loro che erano ciprioti e cirenei giunti ad Antiochia si misero a parlare anche ai greci portando il lieto messaggio del signore Gesù la mano del signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al signore la notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia quando gli giunse e vide la grazia di Dio si rallegrò e gli esortò tutti ad attenersi al signore con cuore risoluto perché egli era un uomo buono pieno di spirito santo e di fede e una folla molto numerosa fu aggiunta al signore poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa e istruirono un gran numero di persone ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro di nome Agabo alzatosi predisse mediante lo spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra e la si ebbe infatti durante l'impero di Claudio i discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione ciascuno secondo le proprie possibilità ai fratelli che abitavano in Giudea e così fecero inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo capitolo 12 in quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo fratello di Giovanni vedendo che ciò era gradito ai Giudei continuò e fece arrestare anche Pietro erano i giorni degli azimi dopo averlo fatto arrestare lo mise in prigione affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua Pietro dunque era custodito nella prigione ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato con due catene e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella l'angelo battendo il fianco a Pietro lo svegliò dicendo alzati presto e le catene gli caddero dalle mani lo disse vestiti e mettiti i sandali e Pietro fece così poi gli disse ancora mettiti il mantello e seguimi ed egli uscito lo seguiva non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo credeva infatti di avere una visione comebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia giunsero alla porta di ferro che immette in città la quale si aprì da sé davanti a loro uscirono e si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui Pietro rientrato in sé disse ora so di sicuro che il signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendiva il popolo dei giudei Pietro dunque consapevole della situazione andò a casa di Maria madre di Giovanni detto anche Marco dove molti fratelli erano riuniti in preghiera dopo aver bussato alla porta d'ingresso una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era e riconosciuta la voce di Pietro per la gioia non aprì la porta ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta quelli le dissero tu sei pazza ma lei insisteva che la cosa stava così ed essi dicevano è il suo angelo Pietro intanto continuava a bussare e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti ma egli con la mano fece loro genno di tacere e raccontò in che modo il signore lo aveva fatto uscire dal carcere poi disse fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli quindi uscì e se ne andò in un altro luogo fatto sigiorno i soldati furono molto agitati perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro Erode lo fece cercare e non avendolo trovato processò le guardie e comandò che fossero condotti al supplizio poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea Erode era fortemente irritato contro i tiri e i sidoni ma essi di comune accord si presentarono a lui e guadagnato il favore di Blasto ciambellano del re chiesero pace perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re nel giorno fissato Erode indossò l'abito regale e sedutosi sul trono tenne loro un pubblico discorso e il popolo acclamava voce di un dio e non di un uomo in quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato la gloria a Dio e eroso dai vermi morì intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più Barnaba e Saulo compiuta la loro missione tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni detto anche Marco capitolo 13 nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori Barnaba Simione detto Niger Lucio di Cirene Manaem amico d'infanzia di Erode il Tetrarca e Saulo mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano lo Spirito Santo disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati allora dopo aver digiunato pregato e imposto loro le mani li lasciarono partire essi dunque mandati dallo Spirito Santo scesero a Seleucia e da là salparono verso Cipro giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante poi attraversata tutta l'isola fino a Pafo trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù il quale era con il proconsule Sergio Paolo uomo intelligente questi chiamati a sé Barnaba e Saulo chiese di ascoltare la parola di Dio ma Elima il mago questo è il significato del suo nome faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsule dalla fede allora Saulo detto anche Paolo pieno di Spirito Santo guardandolo fisso gli disse oh uomo uomo pieno d'ogni frode e d'ogni malizia figlio del diavolo nemico di ogni giustizia non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore ecco ora la mano del Signore su di te e sarai cieco per un certo tempo senza vedere il sole in quell'istante oscurità e tenebre piombarono su di lui e andando qua e là cercava chi lo conducese per la mano allora il proconsule visto quello che era accaduto credette colpito dalla dottrina del Signore Paolo e i suoi compagni imbarcatesi a Pafo arrivarono a Perga di Panfilia ma Giovanni separatosi da loro ritornò a Gerusalemme essi passando oltre Perga giunsero ad Antiochia di Pisidia ed entrati di sabato nella sinagoga si sedettero dopo la lettura della legge dei profeti i capi della sinagoga mandarono a dir loro fratelli se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo ditela allora Paolo si alzò e fatto cinno con la mano disse israeliti e voi che temete Dio ascoltate il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto e con braccio potente lo trasse fuori e per circa 40 anni sopportò la loro condotta nel deserto poi dopo aver distrutto sette nazioni nel paese di Canaan distribuì loro come eredità il paese di quelle dopo queste cose per circa 450 anni diede loro dei giudici fino al profeta Samuele in seguito chiesero un re e Dio diede loro Saul figlio di Chis della tribù di Beniamino per un periodo di 40 anni poi lo rimosse e suscitò loro come re Davide al quale rese questa testimonianza io ho trovato Davide figlio di Iesse uomo secondo il mio cuore che eseguirà ogni mio volere dalla discendenza di lui secondo la promessa Dio ha suscitato a Israele un salvatore nella persona di Gesù Giovanni prima della venuta di lui aveva predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele e quando Giovanni stava per concludere la sua missione disse che cosa pensate voi che io sia io non sono il Messia ma ecco dopo di me viene uno al quale io non sono degno di slacciare i calzari fratelli miei figli della discendenza da Abramo e tutti voi che avete timor di Dio a noi è stata mandata la parola di questa salvezza infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non hanno riconosciuto questo Gesù e condannandolo adempirono le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte chiesero a Pilato che fosse ucciso dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro ma Dio lo risuscitò dai morti e per molti giorni egli apparvi a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo e noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri Dio l'ha adempiuta per noi loro figli risuscitando Gesù come anche è scritto nel Salmo secondo tu sei mio figlio oggi io t'ho generato siccome lo ha risuscitato dai morti in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione Dio ha detto così io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide difatti egli dice altrove tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione or Davide dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri e il suo corpo si è decomposto ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito decomposizione vi sia dunque noto fratelli che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti guardate o disprezzatori stupite e nascondetevi perché io compio un'opera ai giorni vostri un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse mentre uscivano furono pregati di parlare di quelle millesime cose il sabato seguente dopo che la riunione fu sciolta molti giudei e proseli di Pi seguirono Paolo e Barnaba i quali parlando loro li convincevano a perseverare nella grazia di Dio il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio ma i giudei vedendo la folla furono pieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio ma poiché la rispingete e non vi ritenete degni della vita eterna ecco ci rivolgiamo agli stranieri così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra gli stranieri udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero e la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione ma i giudei istigarono le donne pie ragguardevoli e notabili della città scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba che furono cacciati fuori dal loro territorio allora essi scossa la polvere dei piedi contro di loro andarono a Iconio mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo e di Soprano e di Soprano Capitolo 14 Anche a Iconio Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei, che avevano rifiutato di credere, aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che, per mano loro, avvenissero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltreggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nella città di Licaonia, listra ed erba in i dintorni, e là continuarono a evangelizzare. A listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto e, siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce «Alzati in piedi!» Ed egli salto su e si mise a camminare. La volla, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica «Gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi». I chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva al discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori». E con queste parole riuscirono a stento a impedire che la folla offrisse loro un sacrificio. «Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città». Il giorno seguente partì con Barnaba per derba «E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono all'Istra, a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Quindi, attraversata la Pisidia, giunsero in Panfilia. Dopo aver annunziato la parola a Perga, scesero ad Attalia e di là salparono verso Antiochia da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti là e riunita la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri e rimasero con i discepoli parecchio tempo. Capitolo 15 Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli dicendo «Se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati». E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo «Bisogna circonciderli e comandare loro di osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse «Fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio che conosce i cuori rese testimonianza in loro favore dando lo Spirito Santo a loro come a noi e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro purificando i loro cuori mediante la fede. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro tutta l'assemblea taccoi e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Quando ebbero finito di parlare Giacomo prese la parola e disse fratelli ascoltatemi Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome e con ciò si accordano le parole dei profeti come sta scritto dopo queste cose ritornerò ricostruirò la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui ha invocato il mio nome cerchino il Signore dice il Signore che fa queste cose a lui note fin dall'eternità perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli dalla fornicazione dagli animali soffocati e dal sangue perché Mosè fin dalle antiche generazioni ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoge dove viene letto ogni sabato allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba Giuda detto Barsabba e Sila uomini autorevoli tra i fratelli e consegnarono loro questa lettera i fratelli apostoli e anziani ai fratelli di Antiochia di Siria e di Cilicia che provengono dal paganesimo salute abbiamo saputo che alcuni fra noi partiti senza nessun mandato da parte nostra vi hanno turbato con i loro discorsi sconvolgendo le anime vostre è parso bene a noi riuniti di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo vi abbiamo dunque inviato Giuda e Sila anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli dal sangue dagli animali soffocati e dalla fornicazione da queste cose farete bene a guardarvi state sani essi dunque presero comiato e scesero ad Antiochia dove era adunata la moltitudine dei credenti consegnarono la lettera quando i fratelli l'ebbero letta si rallegrarono della consolazione che essa portava loro Giuda e Sila anch'essi profeti con molte parole li esortarono e li fortificarono dopo essersi trattenuti là a diverso tempo i fratelli li lasciarono ritornare in pace a coloro che li avevano inviati ma apparve bene a Sila di rimanere qui Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando e portando insieme a molti altri il lieto messaggio della parola del Signore dopo diversi giorni Paolo disse a Barnaba ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni ditto Marco ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera nacque un aspro dissenso al punto che si separarono Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro Paolo invece scelse Sila e partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore e percorse la Siria e la Cilicia rafforzando le chiese capitolo 16 giunse giunse anche a Derba e all'Istra e là c'era un discipolo di nome Timoteo figlio di una donna ebrea credente ma di padre greco di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano all'Istra e a Iconio Paolo volle che egli partisse con lui perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi perché tutti sapevano che il padre di lui era greco passando da una città all'altra trasmisero ai fratelli perché le osservassero le decisioni prese dagli apostoli dagli anziani che erano a Gerusalemme le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia e giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro e oltrepassata la Misia discesero a Troas Paolo ebbe durante la notte una visione un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorrici appena ebbe avuta quella visione cercammo subito di partire per la Macedonia convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo perciò salpando da Troas puntammo diritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis di là ci recammo a Filippi che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia e restammo in quella città alcuni giorni il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera e sedutici parlavamo alle donne la riunite una donna della città di Tiatiri commerciante di porpora di nome Lidia che temeva Dio ci stava ad ascoltare il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo dopo che fu battezzata con la sua famiglia ci pregò dicendo se avete giudicato che io sia fedele al Signore entrate in casa mia e alluggiatevi e ci costrinse ad accettare mentre andavamo al luogo di preghiera incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione facendo l'indovina essa procurava molto guadagno ai suoi padroni Costei messasi a seguire Paolo e noi gridava questi uomini sono servi del Dio altissimo e vi annunzano la via della salvezza così fece per molti giorni ma Paolo infastidito si voltò e disse allo spirito io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei ed egli uscì in quell'istante i suoi padroni vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità e presentateli ai pretori dissero questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lescito accettare e ne praticare la folla insorse allora contro di loro e i pretori strappate loro le vesti comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente ricevuto tale ordine egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi verso la mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano a un tratto vi fu un gran terremoto la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono il carceriere si svegliò e vedute tutte le porte del carcere spalancate sguainò la spada per uccidersi pensando che i prigionieri fossero fuggiti ma Paolo gli gridò ad alta voce non farti del male perché siamo tutti qui il carceriere chiesto un lume balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila poi li condusse fuori e disse signori che debbo fare per essere salvato ed essi risposero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi poi li fece salire in casa sua apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio fattosi giorno i pretori mandarono i lettori a dire libera quegli uomini il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo i pretori hanno mandato a dire che siate rimessi in libertà or dunque uscite e andate in pace ma Paolo disse loro dopo averci battuti in pubblico senza che fossimo stati condannati noi che siamo cittadini romani ci hanno gettati in prigione e ora vogliono rilasciarci di nascosto no davvero anzi vengano loro stessi a condurci fuori i lettori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando seppero che erano romani e si vennero e li pregarono di scusarli e accompagnandoli fuori chiesero loro di andarsene dalla città allora Paolo e Sila usciti dalla prigione entrarono in casa di Lidia e visti i fratelli li confortarono e partirono capitolo 17 dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia giunsero a Tessalonica dove c'era una sinagoga dei giudei e Paolo come era sua consuetudine entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti e il Cristo egli diceva è quel Gesù che io vi annunzio alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila e così una gran folla di greci ipi e non poche donne delle famiglie più importanti ma i giudei mossi da invidia presero con loro alcuni uomini malvagi tra la gente di piazza e raccolta quella plebaglia misero in subuglio la città e a salita la casa di Giasone cercavano di trascinare Paolo e Sila davanti al popolo ma non avendoli trovati trascinarono Giasone alcuni fratelli davanti ai magistrati della città gridando costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui e Giasone li ha ospitati ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare dicendo che c'è un altro re Gesù e misero in agitazione la popolazione e i magistrati della città che udivano queste cose questi dopo aver ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri li lasciarono andare ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea ed essi appena giunti si recarono nella sinagoga dei giudei or questi erano dei sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica perché ricevettero la parola con ogni premura esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così molti di loro dunque credettero e così pure un gran numero di nobildonne greche e di uomini ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche a Berea si recarono là agitando e mettendo sotto sopra la folla i fratelli allora fecero subito partire Paolo conducendolo fino al mare ma Sila e Timoteo rimasero ancora là quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima si recassero da lui se ne tornarono indietro mentre Paolo li aspettava ad Atene lo spedito gli si inaccerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano e anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui alcuni dicevano che cosa dice questo ciarlatano e altri egli sembra essere un predicatore di divinità straniere perché annunziava Gesù e la risurrezione presolo con sé lo condossero sull'area opaco dicendo potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi poiché tu ci fai sentire cose strane noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose or tutti gli Ateniesi i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ascoltare novità e Paolo stando in piedi in mezzo all'area opaco disse Ateniesi vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto orbene ciò che voi adorate senza conoscerlo io ve lo annunzio il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso essendo il Signore del cielo e della terra non abita in tempi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa lui che dà a tutti la vita il respiro e ogni cosa egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione affinché cerchino Dio semmai giungano a trovarlo come a tastoni benché egli non sia lontano da ciascuno di noi di fatti in lui viviamo ci muoviamo e siamo come anche alcuni vostri poeti hanno detto poiché siamo anche sua discendenza essendo dunque discendenza di Dio non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti quando sentirono parlare di risurrezione dei morti alcuni se ne beffavano e altri dicevano su questo ti ascolteremo un'altra volta così Paolo uscì di mezzo a loro ma alcuni si unirono a lui e credettero tra i quali anche Dionisio Lario Pagita una donna chiamata Damaris e altri con loro Capitolo 18 Dopo questi fatti egli lasciò Atene e si recò a Corinto qui trovò un ebreo di nome Aquila oriundo del Ponto giunto di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma Egli si unì a loro Essendo del medesimo mestiere andò ad abitare e a lavorare con loro Infatti di mestiere erano fabbricanti di tende Ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia Paolo si dedicò completamente alla parola testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo Ma poiché essi facevano opposizione e lo insultavano Egli scosse le sue vesti e disse loro Il vostro sangue ricada sul vostro capo Io ne sono netto Da ora in poi andrò dai pagani E uscito di là entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto che temeva Dio e aveva la casa attigua alla sinagoga ma Crispo capo della sinagoga credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia molti corinzi udendo credevano e venivano battezzati una notte il Signore disse in visione a Paolo non temere ma continua a parlare e non tacere perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male perché io ho un popolo numeroso in questa città ed egli rimase là un anno e sei mesi insegnando tra di loro la parola di Dio poi quando Gaglione era proconsole della caia i giudei unanimi insorsero contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo costui persuade la gente ad adorare Dio in modo contrario alla legge Paolo stava per parlare ma Gaglione disse ai giudei se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche cattiva azione o giudei io vi ascolterei pazientemente come vuole la ragione ma se si tratta di questioni intorno a parole a nomi e alla vostra legge vedetevela voi io non voglio essere giudice di queste cose e li fece uscire dal tribunale allora tutti afferrarono sostene il capo della sinagoga e lo picchiarono davanti al tribunale e Gaglione non si curava affatto di queste cose quanto a Paolo dopo essersi trattenuto ancora molti giorni a Corinto prese e commiato dai fratelli e navigò verso la Siria con Priscilla e Aquila dopo essersi fatto radere il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto si imbarcò per la Siria con Priscilla e Aquila quando giunsero a Efeso Paolo li lasciò là poi entrato nella sinagoga si mise a discorrere con i giudei essi lo pregarono di rimanere da loro più a lungo ma egli non ha consentì e dopo aver preso commiato e aver detto che Dio volendo sarebbe tornato da loro un'altra volta salpò da Efeso giunto a Cesarea salì a Gerusalemme e salutata la chiesa scese ad Antiochia dopo essersi fermato qui qualche tempo partì percorrendo la regione della Galazia della Frigia successivamente fortificando tutti i discepoli ora un ebreo di nome Apollo oriondo di Alessandria uomo eloquente e versato nelle scritture arrivò a Efeso egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga ma Priscilla e Aquila dopo averlo udito lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio poi siccome voleva andare i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo giunto là egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei dimostrando con le scritture che che Gesù è il Cristo capitolo 19 Mentre Apollo era corinto Paolo dopo aver attraversato le regioni superiori del paese giunse a Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse riceveste lo spirito santo quando credeste gli risposero non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo spirito santo e gli disse loro con quale battesimo siete dunque stati battezzati essi risposero con il battesimo di Giovanni Paolo disse Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui cioè in Gesù udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù e avendo Paolo imposto loro le mani lo spirito santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano erano in tutto circa dodici uomini poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per tre mesi esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della nuova via davanti alla folla egli ritiratosi da loro separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di tiranno questo durò due anni così tutti coloro che abitavano nell'Asia giudei e greci udirono la parola del Signore Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembioli che erano stati sul suo corpo e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni dicendo io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia quelli che facevano questo erano sette figli di un certo sceva ebreo capo sacerdote ma lo spirito maligno rispose loro conosco Gesù e so chi è Paolo ma voi chi siete e l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su due di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti questo fatto fu riseputo da tutti giudei e greci che abitavano a Efeso e tutti furono presi da timore e il nome del Signore Gesù era esaltato molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte fra quanti avevano esercitato le arti magiche molti portavano i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti e calcolato nel prezzo trovarono che era di 50.000 dramme d'argento così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente dopo questi fatti Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme passando per la Macedonia e per la Caia dopo essere stato là diceva bisogna che io veda anche Roma mandati in Macedonia due dei suoi aiutanti Timoteo ed Erasto egli si fermò ancora per qualche tempo in Asia in quel periodo vi fu un gran tumulto a proposito della nuova via perché un tale di nome Demetrio orefice che faceva tempietti di Diana in Argento procurava un non poco guadagno agli artigiani riuniti questi e gli altri che esercitavano il medesimo mestiere disse uomini voi sapete che da questo lavoro proviene la nostra prosperità e voi vedete ed udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente non solo a Efeso ma in quasi tutta l'Asia dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cade in discredito ma che anche il tempio della grande Dea Diana non conti più e che sia perfino privata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano essi udite queste cose accesi di sdegno si misero a gridare grande è la Diana degli Efesini e tutta la città fu piena di confusione e trascinando con sé a forza a Gaio e Aristarco macedoni compagni di viaggio di Paolo si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro Paolo voleva presentarsi al popolo ma i discepoli glielo impedirono anche alcuni magistrati dell'Asia che gli erano amici mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro intanto chi gridava una cosa chi un'altra infatti l'assemblea era confusa e i più non sapevano per quale motivo si fossero riuniti dalla folla fecero uscire Alessandro che i giudei spingivano avanti e Alessandro fatto cenno con la mano voleva tenere un discorso di difesa davanti al popolo ma quando si accorsero che era ebreo tutti per quasi due ore si misero a gridare grande e la diana degli efesini allora il segretario calmata la folla disse uomini di efeso c'è forse qualcuno che non sappia che la città degli efesini è la custode del tempio della grande diana e della sua immagine caduta dal cielo queste cose sono incontestabili perciò dovete calmarvi e non far nulla in modo precipitoso voi infatti avete condotto qua questi uomini quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra Dea se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno ci sono i tribunali e ci sono i proconsoli si facciano citare gli uni e gli altri se poi volete ottenere qualcos'altro la questione si risolverà in un'assemblea regolare infatti corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per la riunione di oggi non essendovi ragioni alcuna con la quale poter giustificare questo tumulto detto questo sciolse l'assemblea capitolo 20 cessato il tumulto paolo fece chiamare i discepoli e dopo averli esortati li salutò e partì per la macedonia attraversate quelle regioni rivolgendo molte esortazioni ai discepoli giunse in grecia qui si trattenne tre mesi poi dato che i giudei avevano ordito un complotto contro di lui mentre stava per imbarcarsi per la siria decise di ritornare attraverso la macedonia lo accompagnarono a sopatro di berea figlio di pirro aristarco e secondo di tessalonica gaio di derba timoteo e dalla provincia ad asia tichico e trofimo questi andarono avanti e ci aspettarono a troas trascorsi i giorni degli azimi partimmo da filippi e dopo cinque giorni li raggiungemo a troas dove ci trattenemmo sette giorni il primo giorno della settimana mentre eravamo riuniti per spezzare il pane paolo dovendo partire il giorno seguente parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte nella sala di sopra dove eravamo riuniti c'erano molte lampade un giovane di nome eutico che stava seduto sul davanzale della finestra fu colto da un sonno profondo poiché paolo tirava in lungo il suo dire egli sopraffatto dal sonno precipitò giù dal terzo piano e venne raccolto morto ma paolo scese si gettò su di lui e abbracciato lo disse non vi turbate perché è ancora in vita poi risali spezzò il pane e prese cibo e dopo aver ragionato lungamente sino all'alba partì il giovane fu ricondotto vivo ed essi ne furono oltremodo consolati quanto a noi che eravamo partiti con la nave facemmo vila per asso dove avevamo intenzione di prendere a bordo paolo perché egli aveva stabilito così volendo fare quel tragitto a piedi quando ci raggiunse ad asso lo prendemmo con noi e arrivammo a mitilene di là navigando arrivammo il giorno dopo di fronte a chio il giorno seguente approdammo a samo e il giorno dopo giungemmo a mileto paolo aveva deciso di oltrepassare efeso per non perdere tempo in asia egli si affrettava per trovarsi a gerusalemme se gli fosse stato possibile il giorno della pentecoste da mileto mandò a efeso a chiamare gli anziani della chiesa quando giunsero da lui disse loro voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in asia mi sono sempre comportato con voi servendo il signore con ogni umiltà e con lacrime tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel signore nostro Gesù Cristo ed ecco chi ora legato dallo spirito vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno so soltanto che lo spirito santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio ed ora ecco io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il regno non vedrete più la mia faccia perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi i lupi rapaci i quali non risparmieranno il gregge e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli perciò vegliate ricordandovi che per tre anni notte e giorno non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime e ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati non ho desiderato né l'argento né l'oro né i vestiti di nessuno voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me in ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù il quale disse egli stesso vi è più gioia nel dare che nel ricevere quando ebbe dette queste cose si pose in ginocchio e pregò con tutti loro tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia e l'accompagnarono alla nave capitolo 21 dopo esserci separati da loro salpammo e giungemmo direttamente a Cos il giorno seguente a Rodi e di là a Patara e trovata una nave diretta in Fenicia salimmo a bordo e salpammo giunti in vista di Cipro e lasciatala a sinistra navigammo verso la Siria e approdammo a tiro perché qui si doveva scaricare la nave trovati i discepoli soggiornammo la sette giorni essi mossi dallo spirito dicevano a Paolo di non metter piede a Gerusalemme quando però fummo al termine di quei giorni partimmo per continuare il viaggio accompagnati da tutti loro con le mogli e i figli sin fuori dalla città dopo esserci inginocchiati sulla spiaggia pregammo e ci dicemmo addio poi salimmo sulla nave e quelli se ne tornarono alle loro case terminata la navigazione da tiro arrivammo a Tolemaide e salutati i fratelli restammo un giorno con loro ripartiti il giorno dopo giungemmo a Cesarea ed entrati in casa di Filippo l'Evangelista che era uno dei sette restammo da lui egli aveva quattro figlie non sposate le quali profetizzavano eravamo là da molti giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo egli veni da noi e presa la centura di Paolo si legò i piedi e le mani e disse questo dice lo Spirito Santo a Gerusalemme i Giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani quando dimmo queste cose tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme Paolo allora rispose che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore sappiate che io sono pronto non solo a essere legato ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù e poiché non si lasciava persuadere ci rassegnammo dicendo sia fatta la volontà del Signore dopo quei giorni fatti i nostri preparativi salimmo a Gerusalemme vennero con noi anche alcuni discepoli di Cesarea che ci condussero in casa di un certo Mnasone di Cipro discepolo di vecchia data presso il quale dovevamo alloggiare arrivati a Gerusalemme i fratelli ci accolsero festosamente il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani dopo averli salutati Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo servizio ed essi dopo averlo ascoltato glorificavano Dio poi dissero a Paolo fratello tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti e allora è inevitabile che molti di loro si radunino perché verranno a sapere che tu sei venuto fa dunque quello che ti diciamo noi abbiamo quattro uomini che hanno fatto un voto prendili con te purificati con loro e paga le spese per loro affinché possano radersi il capo così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevute sul tuo conto ma che tu pure osservi la legge quanto ai pagani che hanno creduto noi abbiamo scritto decretando che si astengono dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue dagli animali soffocati e dalla fornicazione allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro entrò nel tempio annunziando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro quando i sette giorni stavano per compiersi i giudei dell'asia vedendolo nel tempio aizzarono tutta la folla e gli misero le mani addosso gridando israelite venite in aiuto questo è l'uomo che va predicando a tutti e da per tutto contro il popolo contro la legge e contro questo luogo e oltre a ciò ha condotto anche dei greci nel tempio e ha profanato questo santo luogo infatti prima avevano veduto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio tutta la città fu in agitazione e si fece un assembramento di gente afferrato Paolo lo trascinarono fuori dal tempio e subito le porte furono chiuse mentre cercavano di ucciderlo fu riferito al tribuno della corte che tutta Gerusalemme era in subuglio ed egli presi immediatamente dei soldati e dei centurioni si precipitò verso i giudei i quali vedendo il tribuno e i soldati cessarono di battere Paolo allora il tribuno si avvicinò prese Paolo e ordinò che fosse legato con due catene poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto e nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra per cui non potendo sapere nulla di certo a causa della confusione ordinò che fosse condotto nella fortezza quando Paolo arrivò alla gradinata dovette per la violenza della folla essere portato di peso dai soldati perché una marea di gente incalzava gridando a morte quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza disse al tribuno mi è permesso dirti qualcosa quegli rispose sai il greco non sei dunque quell'egiziano che tempo fa sobillò e condusse nel deserto quei quattromila briganti ma Paolo disse io sono un giudeo di Tarso cittadino di quella non oscura città di Cilicia e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo il tribuno glielo permise e Paolo stando in piedi sulla gradinata fece cenno con la mano al popolo e fattosi un gran silenzio parlo loro in ebraico dicendo capitolo 22 fratelli e padri ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa quando ebbero udito che gli parlava loro in lingua ebraica fecero ancor più silenzio poi disse io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia ma allevato in questa città educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri sono stato zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi perseguitai a morte questa via legando e mettendo in prigione uomini e donne come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani avute da loro delle lettere per i fratelli mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là perché fossero puniti mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce caddi a terra e odì una voce che mi disse Saulo Saulo perché mi perseguiti io risposi chi sei signore ed egli mi disse io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti coloro coloro che erano con me videro sì la luce ma non intesero la voce di colui che mi parlava allora dissi signore che devo fare e il signore mi disse alzati va a Damasco e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare e siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce fui condotto per mano da quelli che erano con me e così giunsi a Damasco un certo Anania uomo pio secondo la legge al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza venne da me e accostato si mi disse fratello Saulo ricupera la vista e in quell'istante riebbi la vista e lo guardai egli soggiunse il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà a vedere il giusto e ad ascoltare una parola della sua bocca perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite e ora perché indugi alzati si battezzato e lavato dei tuoi peccati invocando il suo nome dopo il mio ritorno a Gerusalemme mentre pregavo nel tempio fui rapito in estasi e vedi Gesù che mi diceva affrettati esci presto da Gerusalemme perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me e io dissi signore essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoge quelli che credevano in te quando si versava il sangue di Stefano tuo testimone anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidivano ma egli mi disse va perché io ti manderò lontano tra i popoli lo ascoltarono fino a questa parola poi alzarono la voce dicendo togli via dal mondo un uomo simile perché non è degno di vivere come si gridavano e gettavano via i loro vestiti e lanciavano polvere in aria il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza e che venisse interrogato mediante tortura allo scopo di sapere per quale motivo gridassero così contro di lui quando l'ebbero disteso e legato con le cinghe Paolo disse al centurione che era presente vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato il centurione udito questo andò a riferirlo al tribuno dicendo che stai per fare quest'uomo è romano il tribuno andò da Paolo e gli chiese dimmi sei romano ed egli rispose sì il tribuno replicò io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro e Paolo disse io invece l'ho di nascita allora quelli che stavano per sottoporlo a interrogatorio si ritiravano subito da lui e anche il tribuno sapendo che egli era romano ebbe paura perché l'aveva fatto legare il giorno seguente volendo sapere con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei gli tolse le catene e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi e condotto giù Paolo lo fece comparire davanti a loro capitolo 23 Paolo fissato lo sguardo sul sinedrio disse fratelli fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza il summo sacerdote Anania comandò a quelli che erano vicini a lui di percuoterlo sulla bocca allora Paolo gli disse Dio percuoterà te parete imbiancata tu siedi per giudicarmi secondo la legge e violando la legge comandi che io sia percosso coloro che erano là presenti dissero tu insulti il summo sacerdote di Dio Paolo disse fratelli non sapevo che fosse sommo sacerdote perché sta scritto non dirai male del capo del tuo popolo ora Paolo sapendo che una parte dell'assemblea era composta di saducei e l'altra di farisei esclamò nel sinedrio fratelli io son fariseo figlio di farisei ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che son chiamato in giudizio appena ebbe detto questo nacque contesa tra i farisei e i saducei e l'assemblea si trovò divisa perché i saducei dicono che non vi è risurrezione né angelo né spirito mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa ne nacque un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei alzatesi protestarono dicendo non troviamo nulla di male in quest'uomo e se gli avesse parlato uno spirito o un angelo poiché il contrasto andava crescendo il tribuno temendo che paolo fosse fatto a pezzi da quella gente comandò ai soldati di scendere e di portarlo via di mezzo a loro e di condurlo nella fortezza la notte seguente il signore si presentò a paolo e gli disse fatti coraggio perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme così bisogna che tu la renda anche a Roma quando fu giorno i giudei ordinarono una congiura e con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso paolo or quelli che avevano fatto questa congiura erano più di quaranta si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero abbiamo fatto voto scagliando l'anatema contro noi stessi di non mangiare nulla finché non abbiamo ucciso paolo perciò voi con il sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di condurlo giù da voi come se voleste conoscere più esattamente il suo caso e noi prima che gli arrivi siamo pronti a ucciderlo ma il figlio della sorella di paolo venuto a sapere dell'agguato corse alla fortezza ed entrato riferì tutto a paolo paolo chiamato a sé uno dei centurioni disse conduci questo giovane dal tribuno perché ha qualcosa da riferirgli egli lo prese e lo condusse dal tribuno e disse paolo il prigioniero mi ha chiamato e mi ha pregato di condurti questo giovane che ha qualcosa da dirti il tribuno lo prese per mano e appartatosi con lui gli domandò che cosa hai da riferirmi ed egli rispose i giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu riconduca giù paolo nel sinedrio come se volessero informarsi meglio del suo caso ma tu non dar retta a loro perché più di quaranta uomini di loro gli tengono un agguato e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non lo abbiano ucciso e ora sono già pronti aspettando il tuo consenso il tribuno dunque congedò il giovane dopo avergli raccomandato di non parlare con nessuno di quanto gli aveva svelato poi chiamati due centurioni disse loro tenete pronti fin dalla terza ora della notte duecento soldati settanta cavalieri e duecento lanceri per andare fino a cesarea e abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su paolo perché sia condotto sano e salvo dal governatore felice scrisse anche una lettera del seguente tenore claudio lisia all'eccellentissimo governatore felice salute quest'uomo era stato preso dai giudei e stava per essere ucciso da loro quando sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato dalle loro mani avendo saputo che era cittadino romano volendo sapere di che cosa lo accusavano lo condussi nel loro sinedrio ho trovato che era accusato per questioni relative alla loro legge ma che non era incolpato di nulla che fosse meritevole di morte o di prigione però mi è stato riferito che si tendeva un agguato contro quest'uomo perciò l'ho subito inviato da te ordinando anche ai suoi accusatori di dire davanti a te quello che hanno contro di lui i soldati dunque come era stato loro ordinato presero paolo e lo condussero di notte ad antipadrida il giorno seguente lasciarono partire i cavalieri con lui e ritornarono alla fortezza quelli giunti a cesarea e consegnata la lettera al governatore gli presentarono anche paolo egli lesse la lettera e domandò a paolo di quale provincia fosse saputo che era di Cilicia gli disse ti ascolterò meglio quando saranno giunti anche i tuoi accusatori e ordinò che fosse custodito nel palazzo di Erode capitolo 24 cinque giorni dopo il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un avvocato di nome Tertullo e si presentarono al governatore per accusare paolo e gli fu chiamato e Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo siccome per merito tuo eccellentissimo felice godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme in favore di questa nazione noi in tutto e per tutto lo riconosciamo con viva gratitudine ora per non trattenerti troppo a lungo ti prego di ascoltare brevemente secondo la tua benevolenza abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste che fomenta rivolte fra tutti i giudei del mondo ed è capo della setta dei nazareni egli ha perfino tentato di profanare il tempio perciò lo abbiamo preso e volevamo giudicarlo secondo la nostra legge ma il tribuno l'Isia è intervenuto e lo ha tolto con violenza dalle nostre mani ordinando che i suoi accusatori si presentassero davanti a te interrogandolo potrai tu stesso aver piena conoscenza di tutte le cose di cui noi lo accusiamo i giudei si unirono anch'essi nelle accuse affermando che le cose stavano così allora Paolo dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno di parlare rispose sapendo che già da molti anni tu sei giudice di questa nazione parlo con più coraggio a mia difesa perché tu puoi accertarti che non sono più di dodici giorni da quando salì a Gerusalemme per adorare ed essi non mi hanno trovato nel tempio a discutere con nessuno né a fare assembramenti di popolo né nelle sinagoge né in città e non possono provarti le cose delle quali ora mi accusano ma ti confesso questo che adoro il Dio dei miei padri secondo la via che essi chiamano setta credendo in tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti avendo in Dio la speranza condivisa anche da costoro che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini dopo molti anni sono venuto a portare le mosine alla mia nazione e a presentare delle offerte mentre io stavo facendo questo mi hanno trovato purificato nel tempio senza assembramento e senza tumulto e vi erano alcuni giudei dell'Asia questi avrebbero dovuto comparire davanti a te ed accusarmi se avevano qualcosa contro di me oppure dicano costoro quale misfatto hanno trovato in me quando mi presentai davanti al Sinedrio a meno che si tratti di questa sola parola che gridai quando comparvi davanti a loro è a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi allora Felice che era sei bene informato su questa via li rinviò dicendo quando sarà giunto il tribuno l'Isia esaminerò il caso vostro e ordinò al centurione che Paolo fosse custodito permettendogli però una certa libertà e senza vietare ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi dopo alcuni giorni Felice venuto con sua moglie Drusilla che era ebrea mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù siccome Paolo parlava di giustizia di temperanza e del giudizio futuro Felice si spaventò e replicò per ora va e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare egli sperava allo stesso tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro per questo lo mandava spesso a chiamare e conversava con lui trascorsi due anni Felice ebbe per successore porcio festo e Felice volendo guadagnare il favore dei giudei lasciò Paolo in prigione capitolo 25 Festo dunque giunse nella sua provincia e tre giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme i capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e con intenzioni ostili lo pregavano chiedendo come un favore che lo facesse venire a Gerusalemme essi intanto avrebbero preparato un'imboscata per ucciderlo durante il viaggio ma Festo rispose che Paolo era costudito a Cesarea e che egli stesso doveva partire presto quelli quelli dunque che hanno autorità fra di voi disse egli scendano con me e se vi è in quest'uomo qualche colpa lo accusino rimasto tra di loro non più di otto o dieci giorni Festo discese a Cesarea e il giorno dopo sedendo in tribunale ordinò che Paolo li fosse condotto davanti quando egli giunse i giudei che erano scesi da Gerusalemme lo circondarono portando contro di lui numerose gravi accuse che non potevano provare mentre Paolo diceva a sua difesa io non ho peccato né contro la legge dei giudei né contro l'itempio né contro Cesare ma Festo volendo far cosa credita ai giudei disse a Paolo vuoi salire a Gerusalemme ad essere giudicato in mia presenza intorno a queste cose ma Paolo rispose io sto qui davanti al tribunale di Cesare dove debbo essere giudicato non ho fatto nessun torto ai giudei come anche tu sai molto bene se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte non rifiuto di morire ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero nessuno mi può consegnare nelle loro mani io mi appello a Cesare allora Festo dopo aver conferito con il consiglio rispose tu ti sei appellato a Cesare a Cesare andrai dopo diversi giorni il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo e poiché si trattennero là molti giorni Festo raccontò al re il caso di Paolo dicendo vi è un uomo che è stato lasciato in carcere da Felice contro il quale quando mi recai a Gerusalemme i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei sporsero denuncia chiedendomi di condannarlo risposi loro che non è abitudine dei romani consegnare un accusato prima che abbia avuto gli accusatori di fronte e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa quando dunque furono venuti qua senza indugio il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che quell'uomo mi fosse condotto davanti i suoi accusatori si presentarono ma non gli imputarono nessuna delle cattive azioni che io supponevo essi avevano contro di lui certe questioni intorno alla propria religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo affermava essere vivo e io non conoscendo la procedura per questi casi gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose ma siccome Paolo aveva interposto appello per essere rimesso al giudizio dell'imperatore ordinai che fosse custodito finché non l'avrei inviato a Cesare Agrippa disse a Festo vorrei anch'io ascoltare quest'uomo ed egli rispose domani lo ascolterai il giorno seguente dunque Agrippa e Berenice giunsero con gran pompa ed entrarono nella sala ad udienza con i tribuni e con i notabili della città e per ordine di Festo fu condotto Paolo allora Festo disse Re Agrippa e voi tutti che siete qui presenti con noi voi vedete quest'uomo a proposito del quale una folla di giudei si è rivolta a me in Gerusalemme e qui gridando che non deve più restare in vita io però non ho trovato che avesse fatto qualcosa meritevole di morte e poiché egli stesso si è appellato all'imperatore ho deciso di mandarglielo siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore l'ho condotto qui davanti a voi e principalmente davanti a te o re Agrippa affinché dopo questo esame io abbia qualcosa da scrivere perché non mi sembra ragionevole mandare un prigioniero senza render note le accuse che vengono mosse contro di lui capitolo 26 Agrippa disse a Paolo ti è concesso di parlare a tua difesa allora Paolo stese la mano disse a sua difesa re Agrippa io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che ci sono tra i giudei perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù che ho trascorsa a Gerusalemme in mezzo al mio popolo è noto a tutti i giudei perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno seppure vogliono renderne testimonianza che secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto da fariseo e ora sono chiamato in giudizio per la speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri della quale promessa le nostre dodici tribù che servono con fervore Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento per questa speranza o re sono accusato dai giudei perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti quanto a me in verità pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno questo infatti feci a Gerusalemme e avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti io rinchiusi nelle prigioni molti santi e quando erano messi a morte io davo il mio voto e spesso in tutte le sinagoge punendoli li costringevo a bestemmiare e infuriato oltremodo contro di loro li perseguitavo fin nelle città straniere mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti a mezzogiorno vidi per strada o re una luce dal cielo più splendente del sole la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio tutti noi e io udì una voce che mi disse in lingua ebraica Saulo Saulo perché mi perseguiti ti è duro ricalcitrare contro il pungolo io dissi chi sei signore e il signore rispose io sono Gesù che tu perseguiti ma alzati e stai in piedi perché per questo ti sono apparso per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati perciò o re Agrippa io non sono stato disubbediente alla visione celeste ma prima a quelli di Damasco poi a Gerusalemme per tutto il paese dalla Giudea e fra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento per questo i giudei dopo avermi preso nel tempio tentavano di uccidermi ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno rendendo testimonianza a piccoli e a grandi senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli il primo a risuscitare dai morti avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni mentre gli diceva queste cose in sua difesa Festo disse ad alta voce Paolo tu vaneggi la molta dottrina ti mette fuori di senno ma Paolo disse non vaneggio eccellentissimo Festo ma pronunzio parole di verità e di buon senno il re al quale parlo con franchezza conosce queste cose perché sono persuaso che nessuna di esse gli è nascosta poiché esse non sono accadute in segreto o re Agrippa credi tu nei profeti io so che ci credi Agrippa disse a Paolo con così poco vorresti persuadervi a diventare cristiano e Paolo piacesse a Dio che con poco o con molto non solamente tu ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali quale sono io all'infuori di queste catene allora il re si alzò e con lui il governatore Berenice e quanti si devono con loro e ritiratisi in disparte parlavano gli uni agli altri dicendo quest'uomo non fa nulla che meriti la morte o la prigione Agrippa disse a Festo quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare capitolo 27 quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia Paolo con altri prigionieri furono consegnati a un centurione di nome Giulio della corte Augusta saliti sopra una nave di Adramitto che doveva toccare i porti della costa d'Asia salpammo avendo con noi a Ristarco un macedone di Tessalonica il giorno seguente arrivammo a Sidone e Giulio usando benevolenza verso Paolo gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure poi partiti di là navigammo al riparo di Cipro perché i venti erano contrari e attraversato il mare di Cilicia e di Panfilia arrivammo a Mira di Licia il centurione trovata qui una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia ci fece salire su quella navigando per molti giorni lentamente giungemmo a fatica per l'impedimento del vento di fronte a Cnido poi veleggiamo sotto Creta a largo di Salmone e costeggiandola con difficoltà giungemmo a un luogo detto Bei Porti vicino al quale era la città di Lasea intanto era trascorso molto tempo e la navigazione si era fatta pericolosa poiché anche il giorno del digiuno era passato Paolo allora li ammonì dicendo Uomini vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno non solo del carico e della nave ma anche delle nostre persone il centurione però aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che non nelle parole di Paolo e siccome quel porto non era adatto a svernare la maggioranza fu del parere di partire di là per cercare di arrivare a Fenice un porto di Creta esposto a sud ovest e a nord ovest e di passarvi l'inverno intanto si era alzato un leggero scirocco e credendo di poter attuare il loro proposito levarono le ancore e si misero a costeggiare l'isola di Creta più da vicino ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euro Aquilone la nave fu trascinata via e non potendo resistere al vento la lasciamo andare ed eravamo portati alla deriva passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda a stento potemmo impadronirci della scialuppa dopo averla hissata a bordo utilizzavano dei mezzi di rinforzo cingendo la nave di sotto e temendo di finire incagliati nelle sirti calarono l'ancora galleggiante e si andava così alla deriva siccome eravamo sbattuti violentamente dalla tempesta il giorno dopo cominciarono a gettare il carico il terzo giorno con le loro proprie mani buttarono in mare l'attrezzatura della nave già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle e sopra di noi infuriava una forte tempesta sicché ogni speranza di scampare era ormai persa dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare paolo si alzò in mezzo a loro e disse uomini bisognava darmi ascolto e non partire da creta per evitare questo pericolo e questa perdita ora però vi esorto a stare di buon animo perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi ma solo della nave poiché un angelo del dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo paolo non temere bisogna che tu compaia davanti a cesare ed ecco dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te perciò uomini state di buon animo perché ho fede in dio che avverrà come mi è stato detto dovremo però essere gettati sopra un'isola e la quattordicesima notte da che eravamo portati qua e là per l'adriatico verso la mezzanotte i marinai sospettavano di essere vicini a terra e calato lo scandaglio trovarono venti braccia poi passati un po' oltre e scandagliato di nuovo trovarono quindici braccia temendo allora di urtare contro gli scogli gettarono da poppa quattro ancore aspettando con ansia che si facesse giorno ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la celupe in mare col pretesto di voler gettare le ancore da prua paolo disse al centurione e ai soldati se costoro non rimangono sulla nave voi non potete scampare allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere finché non si giorno paolo 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 esortava tutti a prendere cibo dicendo oggi sono quattordici giorni che state aspettando sempre digiuni senza prendere nulla perciò vi esorto a prendere cibo perché questo contribuirà alla vostra salvezza e neppure un capello del vostro capo perirà detto questo prese del pane e rese grazie a dio in presenza di tutti poi lo spezzò e cominciò a mangiare e tutti incoraggiati presero anch'essi del cibo sulla nave eravamo 276 persone in tutto e dopo essersi saziati alleggerirono la nave gettando il frumento in mare quando fu giorno non riuscivamo a riconoscere il paese ma scorsero un'insanatura con spiaggia e decisero se possibile di spingervi la nave staccate le ancore le lasciarono andare in mare sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni e alzata la vela maestra al vento si diressero verso la spiaggia ma essendo incappati in un luogo che aveva il mare dai due lati vi fecero arenare la nave e mentre la prua incagliata rimaneva immobile la poppa si sfasciava per la violenza delle onde il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto ma il centurione volendo salvare Paolo li distolse da quel proposito e ordinò che per primi si gettassero in mare quelli che sapevano nuotare per giungere a terra e gli altri chi sopra tavole e chi su rottami della nave e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra capitolo 28 dopo essere scampati riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta gli indigeni usarono verso di noi bontà non comune infatti ci accolcero tutti intorno a un gran fuoco acceso a motivo della pioggia che cadeva e del freddo mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco ne uscì fuori una vepera risvegliata dal calore e gli si attaccò alla mano quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano dissero tra di loro certamente quest'uomo è un omicida perché pur essendo scampato dal mare la giustizia non lo lascia vivere ma Paolo scossa la bestia nel fuoco non ne patì alcun male orissi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo ma dopo aver lungamente aspettato vedendo che non gli avveniva nessun male cambiarono pareri e cominciarono a dire che egli era un dio nei dintorni di quel luogo vi erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola chiamato Publio il quale ci accolse amichevolmente e ci ospitò per tre giorni il padre di Publio era a letto colpito da febbre e da dissenteria Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì avvenuto questo anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti questi ci fecero grandi onori e quando salpammo ci rifornirono di tutto il necessario tre mesi dopo ci imbarcammo su una nave alessandrina recante all'insegna di Castore e Polluce la quale aveva svernato nell'isola approdati a Siracusa vi restammo tre giorni di là costeggiando arrivammo a Reggio il giorno seguente si levò un vento di scirocco e in due giorni giungemmo a Pozzuoli qui trovammo dei fratelli e fummo pregati di rimanere presso di loro sette giorni e dunque giungemmo a Roma ora i fratelli avute nostre notizie di là ci vennero incontro sino al foro Appio e alle tre taverne e Paolo quando li vide ringraziò Dio e si fece coraggio e quando entrammo a Roma il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio a Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia tre giorni dopo Paolo convocò i notabili fra i giudei e quando furono riuniti disse loro fratelli senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri fui arrestato a Gerusalemme e di là consegnato in mano dei romani dopo avermi interrogato essi volevano rilasciarmi perché non c'era in me nessuna colpa meritevole di morte ma i giudei si opponevano e fui costretto ad appelarmi a Cesare senza però aver nessuna accusa da portare contro la mia nazione per questo motivo dunque vi ho chiamato per vedervi a parlarvi perché a motivo della speranza di Israele che sono stretto da questa catena ma i siri dissero noi non abbiamo ricevuto lettere dalla giudea sul tuo conto né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o a dir male di te ma desideriamo sentire da te quel che tu pensi perché quanto a questa setta c'è noto che dappertutto e sei in contraopposizione e avendogli fissato un giorno vennero a lui nel suo alloggio in gran numero ed egli dalla mattina alla sera annunziava loro il regno di Dio rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù alcuni furono persuasi da ciò che egli diceva altri invece non credettero essendo in discordia tra di loro se ne andarono mentre Paolo pronunciava quest'unica sentenza ben parlò lo Spirito Santo quando per mezzo del profeta Isaia disse ai vostri padri vada questo popolo e di voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete guarderete con i vostri occhi e non vedrete perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi non comprendano con il cuore non si convertano e io non li guarisca sappiate dunque che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni ed esse presteranno ascolto quando ebbe detto questo i giudei se ne andarono discutendo vivamente fra di loro e Paolo rimase due anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento grazie a tutti Grazie a tutti.